ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi poche chiacchiere like iscrizione e tanti 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 commenti perché voglio sapere cosa ne pensate di un eventuale acquisto di zirze da parte del milan in questi mesi tante volte ho parlato di lui vi ho detto cosa ne penso vi ho fatto la reaction alle sue giocate e quant'altro io sono molto molto fiducioso non sull'acquisto ma sulla sua performance qualora arrivasse al milano sono convinto che lui abbia le capacità tecniche e mentali di fare bene nel milan vedremo vedremo come andrà allora clausola recessoria 40 milioni di euro che il bologna dovrà accettare per forza clausola che non vale solo per il bayern monaco come sembrava tempo fa ma per tutte le squadre e il milan sembra intenzionato a pagare quella clausola detto questo signori cos'è che farà la differenza la volontà del giocatore è ovvio che qui poi ci sono mille situazioni in ballo perché c'è la scelta del campionato dove giocare la valutazione delle varie squadre che magari vorranno pagare quella clausola il capire le varie squadre se ti possono garantire la titolarità o meno capire quanto ti pagheranno di ingaggio capire anche il tuo procuratore dove ti spingerà perché magari ti può spingere più da una parte piuttosto che dall'altra perché perché ci sono da pagare le commissioni anche per il suo procuratore chi ha e quindi capite che io non sto tranquillo per questo motivo qua perché credo che arriveranno diverse offerte per zirzè sicuramente anche da club in questo momento più importanti del milan che giocano in un campionato più interessanti che possono offrire ingaggi più alti e che possono pagare più commissioni al procuratore lato milan quel che certo è che quella clausola vuole pagarla per quanto riguarda la commissione a chia dal suo agente sapete che il milan storicamente non fa mai queste cioè odia pagare le commissioni tante che spesso abbiamo perso anche dei giocatori per questo motivo qua abbiamo perso anche tanti parametri zero per questo motivo qua perché la filosofia del club giusta sbagliata io credo che poi come sempre no bisogna trovare anche un po un compromesso vi faccio l'esempio appunto di di turamato che è andata all'interno e turam tu lo prendevi a parametro zero quindi valore del cartellino zero cioè tu non pagavi il giocatore in quel caso il milan pare che si sia tirato indietro per delle commissioni alla sua gente al suo entourage e quant'altro ecco in quel caso l'inter ha pagato le commissioni magari ha dato anche un ingaggio più alto del dovuto a turam però intanto ti sei portato a casa un giocatore che vale tot milioni ora non ricordo quando l'inter ha preso quanto valesse turam ma di certo valeva più di zero ok ha fatto anche bene e quindi il suo cartellino è anche aumentato ecco perché dico che non bisogna essere ostaggi dei procuratori quello assolutamente no perché spesso queste commissioni sono il male del calcio non solo questo al ci sono anche altre mille dinamiche che sarebbero analizzate però sicuramente rientra in quelle robe che io abolirei sinceramente perché tu devi prendere soldi al massimo sulla percentuale devi prendere altri soldi perché stai facendo il tuo lavoro detto questo vi ripeto il compromesso è sempre da valutare secondo me no facciamo l'esempio di zirce zirce ho visto che su transfer market vale 50 milioni di euro non è la bibbia transfer market però è un sito decisamente affidabile quindi il suo valore indicativamente si aggira intorno ai 50 milioni di euro tu innanzitutto lo stai pagando 40 milioni di euro qualora venisse al milan poi ci sono le commissioni in questo caso per chi ha che chiederebbe pare 15 milioni di euro che se ci pensate rispetto al valore della clausola è una cifra spropositata mi il milan vorrebbe abbassare queste richieste del procuratore sui 7 8 milioni di euro in quel caso secondo me ci sta tu dici io odio pagare le commissioni però vaffanculo ti dò sti 6 7 milioni di euro è come se comprasti zirce a 47 milioni di euro che rientra secondo me in una cifra giusta per un giocatore che ha fatto sicuramente molto bene quest'anno che ha dimostrato di avere determinate caratteristiche tecniche e mentali ed è un bell'investimento che puoi fare quindi capisco che sia fastidioso pagare queste commissioni ai procuratori però sono dell'idea che in alcune situazioni è giusto scendere a qualche piccolo compromesso per garantirti un giocatore forte giovane che conosce la serie a che ha dimostrato di saper applicare la filosofia del calcio del proprio allenatore perché la cosa che ha fatto impazzire a me quest'anno di zirce non sono solo le giocate i gol gli assist ma la sua professionalità nel mettere in campo le idee di tiago motta è ovvio che speriamo che l'allenatore che sarà probabilmente fonseca abbia delle idee da dare delle idee di gioco da dare a zirce però insomma lui sicuramente quest'anno insomma ha fatto davvero una grande stagione e insieme ad altri giocatori ha trascinato il bologna in una storica qualificazione in champions league e il milano vorrebbe chiudere subito questo discorso per zirce sarebbe per me tanta roba avere leao zirce e pulisic come vi ho detto zirce ancora non ha numeri da bomber ok però sono convinto che innanzitutto nel milano potrebbe sicuramente aumentare i suoi numeri e come vi ho detto è un giocatore che gioca molto per la squadra e i numeri di leao e pulisic o del trequartista che sarà potrebbero effettivamente aumentare grazie grazie a lui vedremo ragazzi ditemi cosa ne pensate percepisco dell'ottimismo percepisco dell'ottimismo per zirce saluti il daniele brogna del futuro che starà riguardando questo questa clip che metterò su instagram quando zirce sarà ufficiale in un'altra squadra quindi l'ottimismo l'ottimismo come vedete speriamo non lo so cerchiamo sempre di vediamo vediamo calma vediamo come si evolverà la situazione però lato mio sarei davvero molto molto felice se joshua riuscisse se il milan riuscisse a strappare zirce ai tanti ai tanti club che sono comunque interessati e vedere zirce con la maglia numero 9 quella storica maglia numero 9 che l'ha avuta bambasten che l'ha avuta george wea che l'ha avuta in zaghi che l'ha avuta la padula sarebbe un onore sarebbe davvero figo detto questo signori vi saluto vi ringrazio vi ricordo che tra poco con gli europei ragazzi ci butteremo a bomba anche lì è live reaction post partita page non solo dell'italia qui verrà fatto un restyling incredibile in ottica nazia bandiere tricolori trombette e quant'altro per vivere insieme questo europeo che speriamo dia qualche soddisfazione in più rispetto all'ultima stagione passata dal milan detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo più tardi con un nuovo contenuto perché da oggi riprendo a fare due video al giorno qui lo dico e qui lo smettisco ciao ragazzi